È uno degli appuntamenti più importanti in questa fase iniziale, anche se l'aspetto mentale della squadra è ottimo. Ragazzi hanno lavorato anche questa settimana in maniera eccellente e mi auguro che domani rispecchiano un po' quello che è stata la settimana di lavoro svolta. Qualche acciacco fisico ancora l'abbiamo, che sapete benissimo, quello di Balic è un po' più lungo e la situazione di Oddo che è in fase di recupero e quindi credo che già dalla prossima potrebbe essere anche utilizzabile. La prossima è di metà settimana? Anche di metà settimana. Abbiamo lavorato in funzione di quella gara perché il piccolo problemino che ha avuto e che l'ha tolto fuori dieci giorni comunque non va alimentato e quindi penso che aspettare un giorno in più, due giorni in più, possa precludere danni peggiori. Vista il forgione come sta? Forgione dobbiamo valutare ancora perché ieri ha fatto un allenamento iniziale e poi si è fermato. Oggi ha svolto la seduta in maniera non del tutto regolare, quindi tra stasera e domani mattina credo che scioglieremo i dubbi anche in funzione di quello che sarà il rapporto con i fisioterapisti e mi diranno. Ma ci abbiamo Don Sa, ci abbiamo anche altri ragazzi che comunque per via e vicissitudini anche dovute a situazioni under sono stati fuori. Mi riferisco a Belli, mi riferisco anche ai giovani 2006 che possono essere comunque dei giocatori che possono sicuramente dire la loro. Fino a quando noi abbiamo tutti disponibili, ovviamente uno mette la formazione migliore. Quando c'è qualche defezione io ho piena fiducia negli altri ragazzi che si stanno allevando sempre con serietà e professionalità. Affrontiamo una squadra organizzata, una squadra che ha delle qualità importanti, soprattutto nel reparto avanzato, da apprendere con le pinze. Ci sono dei giocatori veramente interessanti, Galesio, De Gidio, Volpe, Ture stesso, che hanno delle qualità tecniche ma anche fisiche importanti. In più aggiungo che è una squadra che viene da tre vittorie di fila e quindi hanno sicuramente un piglio e una positività importante, ma dall'altra parte, come ho detto anche ai ragazzi, noi che parte facciamo? Noi siamo il Chieti, abbiamo anche noi dei giocatori che possono fare molto bene in questo campionato, a cui ho tantissima fiducia e sono sicuro che, visto che il mio gruppo e la mia squadra ha dentro un cuore pulsante importante, su quello dove dobbiamo far leva e cercare di essere cattivi, concentrati, umili e soprattutto vogliosi di voler mettere in difficoltà una squadra che si confronterà con noi, una squadra di livello che si confronterà con noi.